salve ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono frango 33 oggi siamo ritornati con con the monster 96 che sarebbe vici 96 ok lo conoscete il numero 9 il nuovo scusate mi sto proprio imbrogliando il nuovo nome di vici 96 e the monster e c'è pure c'è pure leon a posto non è scegliere mi chiamava corvo quello che mi ha quello che mi stava spagando prima era corvo ok è scusa se stai guardando questo video scusa devo attrazione ok no bene è che se vede tutto video con the monster 96 sai scusate la shotte e like e scredi Grazie per la visione! Oh! No! 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 Mi immagino già come sono arrabbiata, spero di no, speriamo che questa qua la vingiamo, ma questa. Io sono camberato fino a 15 squadre, ma stai tre. Ok. Questi, tre, sette, uno, quattro, tre, due, uno, poche ci sono. Ok. Il tre può essere proprio buono. Quattro, 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 quattro. Quattro, quattro, quattro. Pieno abbraccio Questo video finisce un po' Se vi è piaciuto lasciate like ed iscrivetevi E ciò alla prossima con un video di Minecraft